Lo aveva detto in tutte le salse che la tolleranza verso chi sporca e crea micro discariche abusive sarebbe stata zero. Il sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno era stato chiaro sin da subito su questo e non aveva mai perso occasione per ribadire il concetto. Perché la percentuale di differenziata sta crescendo a Biancavilla raggiungendo percentuali inimmaginabili fino a qualche anno fa. Peccato però che a Biancavilla qualcuno questo non l'ho ancora capito ed ecco dunque che fa questo. Arriva in macchina una Fiat Punto parchegge e scarica con noscialanza la spazzatura in piazza Sant'Orso alla proprio vicino il comune di Biancavilla. Il fatto risale al 25 gennaio scorso ma le telecamere comunali hanno beccato lo sporcaccione di turno che è stato identificato e ovviamente multato dalla polizia municipale. L'avevo detto e lo ribadisco con forza. Si cambia il registro perché gesti di questo tenore non possono restare impuniti spiega in una nota il primo cittadino Antonio Bonanno. Dobbiamo proseguire sulla strada della raccolta differenziata che sta toccando picchi importantissimi e non nello sporcare senza alcun ritegno. La nostra azione assieme a quella dei vigili e delle forze dell'ordine prosegue incessante e senza sosta. Biancavilla non tollererà più vicende di questo tenore. Ne va del nostro decoro e della nostra stessa vivibilità.